Due condanne e sette assoluzioni. I giudici del Tribunale di Salerno hanno emesso la sentenza di primo grado relativo al processo di Piazza della Libertà. Si tratta del secondo procedimento che riguarda lo slargo prospiciente il Crescent, l'emiciclo progettato dall'Archistar Riccardo Bofill, a carico di tecnici dell'impresa costruttice e del Comune di Salerno. Il collegio ha condannato due mesi e venti giorni con la sospensione condizionale della pena Antonio Ragusa, responsabile unico del procedimento e Massimo della Casa, collaudatore dell'opera. Assolti invece, per non aver commesso il fatto, gli altri sette imputati che sono Marta Santoro, Armando Esposito, Enrico Esposito, Lorenzo Criscuolo, Gilberto Belcore, Sergio delle Femmine e Paolo Baia. L'indagine era partita dopo il crollo di 12 pilastri con il decreto di sequestro della piazza firmato dal Tribunale il 3 dicembre del 2013. I PM invece avevano chiesto la condanna a nove mesi per tutti gli imputati. Il Comune di Salerno, prima della sentenza, aveva rinunciato alla Costituzione di parte civile. Nella sentenza viene inoltre disposto il dissequestro della piazza, che è stata dunque pienamente restituita al Comune di Salerno.